Una volta mi hanno domandato nell'Imbasciata brasiliana tu non puoi pensare che i miti dell'Amazonia siano paragonabili ai miti greci io ho detto sì che posso io sono una poeta e sono anche un'antropologa tutti i miti hanno un suo valore così immenso, così grande io devo dire che come la mia opera è un'opera unica è un'opera diversa, io non posso discutere se sono un grande poeta se non sono, io so che sono un poeta diverso nel Brasile e qui perché sono stata non solo una poeta ecologica ma anche una poeta che ha documentato scientificamente il linguaggio io penso che il poeta è il linguaggio il poeta fornisce il linguaggio anche per gli scrittori il poeta è nel mio caso madre del linguaggio chiaro, io che cosa ho percepito? che solo un poeta può tradurre un altro poeta è il linguaggio anche per il linguaggio anche per gli scrittori